Benvenuti, ben ritrovati a questa edizione di 100 notizie e brindisi. In apertura parliamo delle novità che arrivano da STP Brindisi perché l'Assemblea dei Soci ha nominato il nuovo CDA e il nuovo collegio sindacale. Vediamo i dettagli nel primo servizio. L'Assemblea dei Soci della STP Brindisi ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione nelle persone del senatore Salvatore Tommaselli, dell'avvocato Alessandra Curzi e dell'ingegner Serena Carlucci e il nuovo collegio sindacale nelle persone del dottor Francesco Gigante, del dottor Davide Piazzo e della dottoressa Maria Luigi D'Ambrosio. L'avvocato Rosario Almento, presidente uscente, ha dichiarato Lascio la presidenza del Consiglio di amministrazione di STP che ha segnato in questi nove anni una parte importante del mio percorso professionale. Un'esperienza molto proficua che è coincisa con il grande lavoro di risanamento dell'azienda che dal 2013 ad oggi abbiamo condotto con bilancio inattivo con conti in ordine e crescita esponenziale in termini di efficientamento dei servizi, rinnovamento dei mezzi e servizio dei cittadini e soprattutto ringiovanimento del capitale umano. E' proprio quest'ultimo fattore, quello umano, quello che ritengo più importante perché credo di aver reso tutti i dipendenti orgogliosi di prestare servizio presso questa azienda. Oggi la città e la provincia di Brindisi possono contare sul modello societario non solo in termini di sviluppo e di mobilità ma anche di rispetto delle regole di buona amministrazione, di trasparenza e meritocrazia. Sono convinto che il nuovo Consiglio di amministrazione, nominato dagli enti soci, garantirà la necessaria continuità di questo percorso virtuoso Negli ultimi anni, dopo il risanamento economico-finanziario dell'azienda, abbiamo avviato diversi progetti di sviluppo della mobilità sostenibile che una volta conclusi porteranno grandi benefici alla città e alla provincia di Brindisi. Un sincero ringraziamento, concludendo il miento, rivolgo a tutti i componenti degli organi sociali che negli anni mi hanno accompagnato lungo il percorso condividendo negli indirizzi ai dirigenti e a tutti i dipendenti dell'azienda e loro rappresentanti sindacali con i quali abbiamo intrattenuto rapporti di rispetto, lealtà e correttezzi. Alla fine sarà accorpamento tra gli enti camerali di Taranto e Brindisi, ma per i territori non ci saranno penalizzazioni. Questo è il pensiero del commissario dell'ente camerale di Brindisi, Antonio D'Amore. Sentiamo il servizio di Anna Saponardi. Il territorio non sarà penalizzato, così il commissario straordinario della Camera di Commercio di Brindisi, Antonio D'Amore, ha commentato l'accorpamento fra gli enti camerali di Brindisi e Taranto, notizia che circola da qualche giorno, il che significa che non sarà necessario fare ricorso al Consiglio di Stato. Francamente il risultato era quello che ci aspettavamo, nel senso che quando il Fredo Malcarne e la Camera di Commercio hanno iniziato questa battaglia, la Camera di Commercio si chiudeva, il personale si trasferiva, i servizi camerali si potevano ottenere soltanto dalla sede di Taranto. Invece, grazie alla nostra battaglia e con la risposta del Tar, è vero il contrario. La Camera di Commercio resta a Brindisi, il personale non si trasferisce, l'attività promozionale sarà garantita, così come tutti i servizi camerali. L'unica cosa che cambia in realtà è l'accorpamento della parte politica della Camera di Commercio, cioè il suo Consiglio, la sua giunta e avrà un unico Presidente con prerogative però su due territori e sarà affiancato poi da un Vice Presidente con una delega speciale. Quindi era quello che ci aspettavamo ed è un grande risultato per il territorio. Adesso i numeri del bollettino epidemiologico diffuso nella giornata di oggi dalla Regione Puglia. Sono 265 nuovi casi su 19.628 test giornalieri, tre le persone che purtroppo hanno perso la vita. Per quanto riguarda la nuova distribuzione dei nuovi casi provincia per provincia, sono 80 in provincia di Bari, 58 in quella di Foggia, 7 nell'Abbat, 27 in provincia di Lecce, 35 in provincia di Brindisi, 57 in quella di Taranto, un residente fuori Regione, 3631 le persone attualmente positive, 159 quelle ricoverate in area non critica, mentre sono 19 le persone ricoverate in terapia intensiva. I grandi hub vaccinali per il Covid resteranno attivi anche per i vaccini tradizionali. Ieri infatti a Brindisi 250 ragazzi sono vaccinati contro papilloma e meningite nell'hub di Bozzano. Ce ne parla Fabrizio Caglianelli. Circa 250 ragazzi nati nel 2010 sono stati vaccinati nel centro di Bozzano a Brindisi contro il papilloma virus e la meningite meningococcica di tipo B. La sperimentazione di utilizzare i centri più grandi anche per le vaccinazioni di routine era stata avviata nello scorso aprile con i ragazzi nati nel 2009 per iniziativa dell'Asl di Brindisi. Gli hub consentono di vaccinare in sicurezza più persone in un'unica seduta, ha spiegato il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Stefano Termite. L'opportunità che cogliamo in un centro così grande, qual è quello di Bozzano, è quello di vaccinare in un'unica mattinata circa 250 adolescenti, alunni, perché gli spazi sono grandi, abbiamo la possibilità di avere più postazioni, quindi c'è una migliore razionalizzazione delle risorse umane e della struttura. Questa strategia noi già l'abbiamo messa in atto a partire da aprile 2021. In quell'epoca partimmo con la corte di nascita del 2009 e in quella occasione noi abbiamo seguito lo stesso schema, lo stesso calendario e in questi giorni stiamo chiudendo i cicli vaccinali per i nati del 2009. Questa strategia è stata poi presa anche in altre ASI pugliesi, la Regione Puglia ci ha dato l'input per utilizzare gli UB vaccinali per le vaccinazioni rutinarie, per cui noi poi abbiamo continuato, oltre che su Brindisi, anche nelle altre città dove insiste un UB vaccinale. Per cui in questo momento in diverse città della provincia di Brindisi abbiamo vaccinato, stiamo vaccinando gli adolescenti, chiudendo velocemente i cicli vaccinali e quindi non avendo quei tempi dilatati che noi avevamo in passato nei nostri UB vaccinati. In una fase successiva i ragazzi effettueranno la vaccinazione contro la meningite quadrivalente e a maggio del prossimo anno concluderanno il ciclo vaccinale con la seconda dose anti-HPV e meningite B. Avviato in tempi rapidi dall'Ufficio Tecnico della provincia di Brindisi, così come richiesto dalle circostanze e dall'urgente sollecito del Presidente Riccardo Rossi e del Vice Presidente Giuseppe Pace, l'intervento di ripristino della parte del soffitto di due aule del Liceo Linguistico Da Vinci di Fasano, susseguente alla caduta di alcuni calcinacci causata dal distacco di un giunto. Vediamo le immagini che fanno appunto riferimento alla caduta. L'ente ha immediatamente inviato nei giorni scorsi i propri tecnici per dare avvio a ripristino immediato sia degli ambienti scolastici sia dei livelli di sicurezza per gli alunni e per tutto il personale scolastico. Lunedì prossimo il dirigente dell'Ufficio Tecnico della provincia, l'ingegner Vito Ingletti, effettuerà con i suoi collaboratori il sopraluogo finale affinché si possa dare il nulla osta al ritorno a scuola in tutta sicurezza degli alunni. Cambiamo argomento, è online il nuovo portale delle zone economiche speciali di Puglia. L'obiettivo è creare fiducia nel sistema Puglia, ha commentato il presidente dell'autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale, Ugo Patroni-Griffi. Presentato in conferenza stampa il portale di geomarketing delle ZES interregionali pugliesi, uno strumento nato per fornire tutte le informazioni utili all'avvio di un'attività economica all'interno delle aree economiche speciali in Puglia, permettendo un'esperienza di navigazione e di ricerca basata su criteri di fruibilità, accessibilità e completezza. L'obiettivo è creare fiducia nel sistema Puglia per diventare incubatore di nuove imprese, ha dichiarato il presidente dell'autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale, Ugo Patroni-Griffi. Le ZES esistono, cioè non sono un ectoplasma, sono una cosa che esiste, è già operativa, molte imprese stanno già godendo dei benefici fiscali che ha previsto il legislatore sotto il profilo del credito d'imposta, tanto più che una quindicina di giorni fa l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello per ottenere il credito d'imposta sugli investimenti immobiliari. Adesso noi dobbiamo fare una evoluzione delle ZES, attendiamo ovviamente tutti quanti la nomina del commissario, ma dobbiamo fare marketing perché non ci interessa solo che cresca l'economia che è già presente sul territorio, ovviamente ci siamo interessati che questo accada, ma vogliamo che nel nostro territorio arrivino grandi investimenti, soprattutto che ci aiutino ad affrontare la cosiddetta transizione energetica, quindi tutto ciò che ha a che fare con l'economia circolare, la blue economy, i carburanti di transizione, i nuovi carburanti o anche la tecnologia, tutto questo può secondo me essere realizzato nella nostra regione, attrattivi per nuovi investimenti, attrattivi per le imprese che si sono pentite di aver delocalizzato in paesi lontani e vogliono tornare. Il fenomeno del reshoring che è estremamente interessante ai fini di una cosiddetta reindustrializzazione 4.0. Il Comune di Brindisi, con decreto del Ministero per la Transizione Ecologica, ha ottenuto un finanziamento di 472 mila euro per il trasporto scolastico sostenibile, in particolare per l'acquisto di due scuola bus elettrici. I percorsi individuati sono quelli per gli alunni della scuola primaria Gianni Rodario, al quartiere Commende, grazie del Paradiso ne usufriranno. Gli studenti nella zona nord-ovest di Brindisi attraverso due itinerari, il primo tra Contrada Montenegro e la strada provinciale 43 per Restinco, prosegue per strada vicinale Gonella, passa anche per Contrada Palmarini e termina in via Don Luigi Monza. L'altro itinerario è quello che percorre le strade Pilella, Giancola e Scuole Pie fino a via Giovanni Prati. Un altro importante finanziamento ottenuto dal nostro Comune, spiega l'assessore dei trasporti Elena Tiziana Brigante, che sarà utilizzato per migliorare la città dei nostri studenti. Al contempo rappresenterà un elemento di sostenibilità ambientale fondamentale per migliorare la qualità della vita di tutti noi. Abbiamo visto appunto i due percorsi studiati dall'amministrazione comunale e dagli uffici tecnici. Cambiamo argomento, parliamo di cronaca. Minore armato di fucile si allontana da casa in auto, è stato rintracciato dalla polizia ai dettagli nel servizio realizzato da Fabrizio Cagliani. Era alla guida di un'auto nonostante avesse appena 15 anni. Quando è stato fermato dalla polizia nelle campagne di Ostuni, in provincia di Brignisi, ha provato inutilmente a nascondere un fucile che portava con sé dalla Basilicata. Con lui, in quella Volkswagen Golf, c'erano altri tre amici. Il quindicenne vive in provincia di Matera con la famiglia. Nella mattinata di ieri si è messo alla guida della macchina della madre, dopo essersi impossessato del fucile da caccia sottratto al compagno della stessa. Grazie alla geolocalizzazione del telefono cellulare in possesso al minorenne, l'auto è stata rintracciata in località Diana Marina, sul litorale nord di Ostuni. I poliziotti del commissariato della città bianca hanno controllato il veicolo identificando i quattro occupanti, tutti minorenni. Tra di essi vi era il quindicenne, allontanatosi da casa, a seguito di perquisizione veicolare e personale non è stata trovata traccia del fucile. Dopo una lunga mediazione, gli agenti hanno convinto il quindicenne a collaborare e a riferire spontaneamente ogni indicazione per le ricerche dell'arma. Il fucile è stato quindi rinvenuto in campagna sotto alcune pietre con il vivo di volata occluso da carta stagnola, probabilmente per salvaguardarne la funzionalità e le munizioni, nascoste all'interno di una busta di plastica sotto un cespuglio. Seppur allo Stato non sono emersi chiari elementi, si legge in una nota della questura di Brindisi, le modalità di occultamento e ritrovamento dell'arma e delle cartucce lasciano ipotizzare un possibile futuro utilizzo per la commissione di reati. Il quindicenne è stato denunciato alla Procura dei minori per porto e detenzione legale di armi e munizionamento, poi è stato riaffidato ai genitori. Ancora la cronaca, gli uomini dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della sezione volanti hanno rinvenuto e sequestrato 21 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana occultata in una strada secondaria della periferia nord di Brindisi. La sostanza stupefacente era stata riposta in due sacchi di plastica, verosimilmente per agevolarne lo spostamento, ma la massiccia presenza in zona delle pattuglie della Polizia di Stato deve aver indotto i corrieri, al momento non identificate, a abbandonare il proprio carico. La marijuana dopo i rilevi tecnici di rito eseguiti dalla Polizia scientifica è stata sottoposta a sequestro per essere messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sull'accaduto sono in corso le indagini, nei prossimi giorni il questore convocherà un incontro con i rappresentanti di categoria delle attività commerciali in vista dell'ulteriore intensificazione dei servizi di controllo del territorio per le prossime festività natalizie. Sorpreso ad abbandonare rifiuti ed ili nelle campagne della periferia di Brindisi è stato denunciato, un 57enne prosegue dunque l'opera di controllo del territorio da parte dei carabinieri forestali. Purtroppo sono all'ordine del giorno gli episodi di gestione illecita di rifiuti con automezzi cassonati che girano per il territorio caricandosi di materiale di vario genere da scaricare nelle campagne e nelle periferie urbane. L'ultimo episodio in ordine di tempo è avvenuto in Contrada Montenegro nel comune capoluogo in una zona agricola e residenziale. Una pattuglia dei carabinieri forestali ha notato un camion che aveva ribaltato il cassone per depositare scarti di demolizioni lungo una strada poderale. Il proprietario del mezzo, un uomo di 57 anni, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Brindisi per abbandono di rifiuti speciali non pericolosi. Il camion, pur essendo iscritto all'albo dei gestori ambientali, è stato utilizzato in modo abusivo senza formulario di identificazione rifiuti per trasportare calcinacci, pezzi di murature e di piastrelle da depositare lungo una strada poderale. A detta del trasportatore, l'operazione era stata richiesta dal proprietario di un terreno attiguo per livellare la strada, il tutto però senza un'autorizzazione che ne attestasse la veridicità. I carabinieri forestali stanno tuttora indagando sull'origine dei rifiuti e la convintezza dell'operazione, ma intanto, oltre all'informativa di reato, già inoltrata all'autorità giudiziaria, hanno provveduto a sottoporre al sequestro penale il camion e la striscia su cui sono stati scaricati rifiuti lunga 30 metri e larga 2. Il trasgressore rischia la pena dell'ammenda da 2.600 a 26.000 euro o l'arresto da 3 mesi a un anno. Tuttavia, trattandosi di rifiuti non pericolosi, potrebbe optare per la definizione amministrativa del reato dietropagamento, entro 30 giorni, di una somma pari a 6.500 euro e il ripristino dello stato dei luoghi entro i 90 giorni. Il concerto Eofonia in programma nel nuovo Teatro Verde di Brindisi è stato rinviato a data da destinarsi a causa di un'indisposizione di Eugenio Finardi. Il cantatore avrebbe dovuto esibirsi questa sera, giovedì 11 novembre, nel Politeama Brindisino in trio con Raffaele Casarano e Mirko Signorile, seguirà appena possibile, è stato comunicato la comunicazione in merito alla data del recupero live. Stiamo vedendo le immagini che la nostra regia sta mandando sapientemente in onda con il post del cantautore che a destra spiega appunto di aver avuto poco prima della partenza dell'imbarco nel volo per Brindisi un malore a sinistra. Vedete ha subito anche pubblicato quella che è la sua fibrillazione atriale, motivo per il quale appunto questo malore è dovuto appunto a questa fibrillazione tutto a posto fortunatamente per il cantatore, ovviamente come abbiamo già letto nella nota stampa inviata alle testate giornalistiche la data sarà recuperata. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, siamo allo sport, è ufficiale adesso la gara tra Brindisi e team Altamura, si giocherà in provincia di Taranto, a Marugio quindi è superato il problema, almeno per il momento del grana relativa allo stadio, ricordiamo che al Fanuzzi soprattutto sul manto erboso ci sono gli interventi di ristrutturazione, in particolare la semina, quindi vedremo se sarà giocata lontano Alfonsi solo una gara o anche due, vediamo però i dettagli nel prossimo servizio. Risolta per il Brindisi la grana stadio almeno fino alla prossima gara di campionato, dopo lo sfogo del presidente Daniele Arigliano avvenuto nell'ultima puntata di Cento Sport Magazine la problematica è stata superata anche se non con la migliore tra le soluzioni. La società ha comunicato infatti che domenica 14 novembre la partita con il team Altamura, valevole per l'undicesima giornata del girone H del campionato di Serie D, avrà luogo presso lo stadio dei Mitri di Marugio in provincia di Taranto con inizio alle 14.30. Inoltre i posti a disposizione della tifoseria Brindisina saranno 110, il costo del biglietto d'ingresso sarà unico 10 euro, gli abbonamenti 70 in tutto, varranno regolarmente anche per il match con i biancorossi e non sarà aperta la vendita dei tagliandi per la tifoseria ospite. A causa del disagio creato per lo spostamento della gara fuori dalla provincia di Brindisi, la società infine insieme alla ditta Real Bus ha messo a disposizione a titolo gratuito un autobus da 65 posti a favore di chi è impossibilitato a raggiungere Marugio con mezzi propri. Nelle prossime ore verranno fornite maggiori informazioni sull'argomento. Ed era l'ultima notizia, è tutto per questa edizione del telegiornale, la parte tecnica è stata curata da Alessandro Colavito, subito dopo la pubblicità torniamo con 100 notizie Il Fatto. Il Fatto. Il Fatto. Il Fatto. Il Fatto. Il Fatto. Il Fatto.